buongiorno buona settimana a tutti cari amici oggi si riparte con le competizioni europee in particolare con l'europa league quindi il quadro dei quarti di finali è il questo Wolverhampton contro Siviglia la vincente andrà ad affrontare la vincente di Manchester United Copenaghen dall'altro lato abbiamo Inter Bayer Leverkusen che si disputerà questa sera alle ore 21 diretta sia su Sky che credo su TV8 e poi è quindi sperando in una vittoria dell'Inter e nel caso i nerazzurri ce la fanno andranno ad affrontare la vincente della sfida tra Shakhtar e Basilea certo nello sport in generale nel caso specifico nel calcio nulla è scontato comunque abbiamo la fiducia la speranza inoltre vi ricordo questa sera parlando invece di wrestling sul canale del bardo Michele Posa alle ore 21 circa potrete assistere credo a live aperta a chat agli abbonati con lui Michele Posa e Luca Franchini invece sul canale di Ewison Miro TV potrete assistere al commento che lui Miro farà del suo Miro Universe della puntata di NXT poi per tutte le info specifiche andate su YouTube cercate il canale Michele Posa e Ewison Miro TV per il resto a forza Inter speriamo che possa avanzare alle semifinali vi auguro un buon proseguimento di giornata di nuovo buona settimana a tutti sperando che il ferragosto ci regali qualche soddisfazione ciao a tutti alla prossima ciao